Veramente, addirittura, si no questa cosa mi lascia proprio sorpreso basito Raffaele, vedi che mi sta chiamando mia moglie che è pronto da mangiare e ci vediamo domani al bar Alenù, ci vediamo domani così parliamo anche di quell'altra cosa, va bene? Beh, ehi, ti devo lasciare, ciao Raffaele, vi do me, ciao, ciao Beh, dimmi, c'è che incredibile E che cosi? La moglie di Nicole Teresa Teresa E che è successo a Teresa? Che è successo? Cioè, Teresa è rimasta incinta Che bello E Nicola lasciate? Che stronzo Certo che voi uomini siete tutti uguali Non si salva nessuno Giulia Vedi che Nicola Beh È sterile Capito? Non è Amore Che dici? Non sarà un caso? No Sarà che è zoccola? Come va a fare? E' sterile Scusi, come fai? Arrivando in incinta Evidentemente Commissi Grazie a tutti.